Quels dìs ha i engadini snossi il Corvaccio, in una concorrenza spettacolare di conoscere il snowboard, la knife Loma e la knife Antira. La knife Antira ha una e una abundanza. Il giorno vi leggo le stagioni per noi, se la biara knife è la forza di Memia. La pendenza è passata al 100%. Rival della vina scelta in trezzo vuol dire considerabile. In giun scambicazze, le organizzatori s'observano e si rende spettacolare la costa. E i corridori s'observano andando la costa vis-à-vis per chattare la mildra via. Armin Beli e Damianca Mattias vettano la blera knife scuola di positiva. La macchina Mattias vettano la scelta in trezzo. Il responsabile è stato un buonore alla Slavena e tutti i guidi da montagna e posta alla costa. Il viaggio per punti, un po' di costa, un po' di scegliere, un po' di scegliere, una disqualificazione. Il viaggio è nuovo. E anche con Armin Bailey. è la Sainte Zürre e l'essere provare un zile tot spezial. Un petflip e un salto in una voce plagiare bene, speditiv in tempo regolare. N'appertòs dedo sulleifce usc'è gruant, ma la raine botta s'blaue uscina n'è l'epimale, botta n'acraire. Es sono però tre nazi e dann l'equipament toccant e la naif. Ci di sovend, scho' una bella pluma l'hova.